Un aereo, una storia umanitaria. Oggi parliamo di questo insieme al nostro ospite al quale do immediatamente il benvenuto, si tratta di Leo Venieri, il presidente di Romagna Air Founders. E allora abbiamo detto questo nome complicato, che cosa rappresenta? Chi siete? Noi siamo innanzitutto un gruppo di volontari, anzi ringrazio prima la direzione e i romeni in particolare dell'invito che ci ha fatto e siamo molto onorati di questo. La Romagna Air Founders nasce tanti anni fa e praticamente il nome è stato preso un po' in inglese, che praticamente significa Romagna Air Founders, cioè ricercatori di aerei perduti. Quindi questa è la sostanza e ormai siamo da anni impegnati in questa cosa tutti volontari e anche umanitaria perché fino ad ora abbiamo recuperato 42 aeroplani e di cui 14 piloti erano ancora a bordo. Quindi per noi è anche un'opera umanitaria perché abbiamo dato degna sepoltura e informati parenti che per loro erano dispersi da tanti anni, quindi abbiamo anche avuto questo aspetto umanitario che per noi ci rende molto molto felici perché con i parenti eccetera abbiamo dei rapporti di amicizia e di codelità che per dei momenti assieme loro molto molto emozionanti, molto commoventi. Romagna perché? Da dove arrivate e dove siete localizzati? Noi siamo localizzati in Fusignano come sede diciamo istituzionale, museale. Fusignano per chi non lo sapesse nel Ravennati, provincia di Ravenna. Nella provincia di Ravenna, esatto, provincia di Ravenna e quindi ormai abbiamo praticamente due musei uno piccolino inaugurato 13 anni fa che è sede del piccolo sede del comune mentre l'altro più eclatante l'abbiamo inaugurato nell'ottobre del 98 e lì esprimiamo al meglio quello che è la nostra ricerca e tutta la tecnologia che abbiamo non solamente quella ma anche i piloti esposti con i loro effetti personali per la caduta in modo che chi viene a visitarci si renda conto effettivamente di storie vissute e particolarmente il messaggio che noi diamo ai giovani in particolare è quello di far capire che la guerra non ha senso. C'è un'intera gioventù andata sotto terra proprio e non ne vale assolutamente la pena quindi speriamo che questo nostro monito possa, purtroppo i tempi sono quelli che sono ma il nostro monito è quello, far capire che la guerra non ha senso. Prima di entrare nel dettaglio del vostro museo che andremo a vedere in maniera virtuale anche attraverso le nostre immagini appunto realizzate all'interno del museo volevo sapere quanti siete e praticamente che cosa fate attivamente insomma perché vediamo il risultato finale nel museo ma cosa fate? Beh sì, come numero siamo diverse decine di componenti volontari diciamo nelle varie specializzazioni, chi fa la ricerca, chi fa la pulitura dei pezzi e siamo divisi in questo e si comincia con le notizie che si ricevono notizie magari di combattimenti aerei, di aerei caduti eccetera e quindi in tante occasioni ci hanno informato magari il testimone diretto che ormai non ci sono più ma i nipoti che ricordano eventi dei loro genitori di aerei caduti e combattimenti quindi cominciamo le ricerche dopodiché quando abbiamo la situazione sotto controllo nel senso di sapere che effettivamente in un determinato territorio è caduto nel plano cominciamo la ricerca con la strumentazione elettronica per vedere di individuare il sito in alcuni casi abbiamo messo anche un paio di anni perché i testimoni o chi per esso che ci racconta avere il punto di impatto individuato in un posto invece la memoria dopo tanti anni può fare degli scherzi e quindi abbiamo avuto diciamo delle indicazioni e dei ritrovamenti a 7-800 metri dal luogo in cui indicavano i testimoni quindi c'è anche questo aspetto però diciamo ci vuole pazienza e volontà e tutti i volontari e tanto tempo libero nostro lo dedichiamo appunto a questo scopo posso dire che la stampa internazionale ci chiama cacciatori di aerei e quindi per noi è anche un onore se vogliamo e quando abbiamo inaugurato il museo Fusignano diciamo il più grande alla presenza anche di rappresentanti d'ambassiata dei piloti recuperati anche lì diciamo la stampa nel complesso ha definito il nostro museo unico in Italia nel suo genere e forse oltre e quindi un piccolo gioiello piccolo poi relativamente perché insomma vi siete ingranditi un piccolo gioiello proprio che arriva dalla Romagna diceva testimoni, testimonianze, come funziona? li andate a cercare voi? ossia o vi decidero un lavoro? inizialmente quando avevamo sentore andavamo adesso magari tanti ci chiamano compresi anche delle missioni comunali dei sindaci che conoscono quello che facciamo specialmente ad Assisi fu la missione di Assisi che ci contattò perché sapeva che c'era un pilota inglese caduto nel suo territorio quindi per noi è stato una grande recupero, una grande storia perché Assisi è città della pace per Antonio Masi nel mondo quindi avendo fatto un recupero in quel territorio di un pilota disperso per noi è stato un grandissimo onore e quindi siamo in ottimi rapporti con la città di Assisi tant'è che il sindaco ci ha regalato il loro logo insomma abbiamo dei bellissimi ricordi che portiamo avanti con volontà e tranquillamente insomma con piacere perché sono opere fatte e lavori fatti in determinate circostanze e situazioni la vostra attività è una passione che avvicina anche i giovani ossia ci sono dei giovani che si rivolgono a voi perché vogliono fare questo o soltanto persone che magari hanno vissuto il ricordo di quello che è stata la guerra? sì la maggioranza dei nostri diciamo non è giovanissima abbiamo anche qualche giovane per fortuna specialmente parlando dal lato delle ricerche con le strumentazioni elettroniche c'è un interessamento quindi ci sono dei giovani interessati e speriamo di portarli avanti e continuare le nostre storie quindi stiamo adesso diciamo avendo queste situazioni e speriamo che queste soddisfazioni piccole portino a ulteriori sviluppi avere anche dei giovani, dei ragazzi che condividono con noi queste storie nei nostri musei certo prima di entrare nel museo vedo che ha diversi materiali diversi reperti davanti a sé quindi vorrei illustrare al nostro pubblico vorrei fare conoscere qualcosa perché questi sono materialmente oggetti che vengono trovati all'interno delle aeree che voi recuperate sì questi sono oggetti che appartenevano ai piloti recuperati sono una piccola parte naturalmente perché se no però ecco sono anche perché poi bisogna venire a visitare il museo per vederli tutti esatto se abbiamo qualche donazione l'abbiamo avuta per esempio adesso questo lo facciamo vedere alla nostra telecamera queste sono banconote da 100 lire italiane che erano addosso al primo pilota inglese recuperato qui a Banca d'Italia forse rovescio magari vedo un attimino ecco qua queste sono 100 lire che aveva addosso e aveva un complesso di monete in totale di 4.000 lire perché in caso che l'aereo fosse colpito e non più governabile c'era un atterraggio di emergenza e quindi il pilota si trovava a centinaia di chilometri magari di distanza dall'aeroporto di partenza con questi soldi italiani lui poteva benissimo chiedere che so a un contodino eccetera a un autogono quanto vuoi per potermi aiutare a rientrare quindi era anche tutto valutato e studiato previsto insomma per l'emergenza per l'emergenza sì poi altri oggetti visto che ne vedo molto interessanti allora questo è l'anello che avevo al dito che aveva al dito il pilota il quarto pilota tedesco si recuperato quindi addirittura con le iniziali del suo nome e cognome c'è una V o una M e infatti il pilota si chiamava Volke Maximilian quindi anche nell'anello un identificativo in sostanza insomma era nativo di Monaco e di Baviera l'orologio vedo anche un orologio questo è ancora utilizzabile questo è un orologio che aveva al polso l'ultimo pilota inglese recuperato e quindi è difficile da rovescio e quindi di ognuno un premetto che facciamo abbiamo fatto la cerimonia funebre che si deve a un caduto e quindi nel caso di Coach che è stato l'ultimo pilota inglese recuperato quando facciamo la cerimonia a Cavarzere in provincia di Venezia c'erano oltre a rappresentanti dell'aeronautica e militare inglese c'erano 19 tra nipoti e pronipoti che sono venuti diciamo a onorare la cerimonia del loro congiunto anche perché la vostra attività come diceva all'inizio è interessante anche per questo perché in sostanza rende una degna sepoltura a coloro che non l'avevano avuta e quindi anche i familiari ovviamente sono riconoscenti per questo sì noi i piloti che abbiamo recuperato per noi sono tutti uguali di qualsiasi fassione di appartenenza perché i piloti cosa hanno fatto? hanno fatto che obbedire agli ordini ricevuti e combattere per le loro bandiere, né più né meno anzi posso anche dire per esempio nel caso, nella fattispecie del più giovane pilota recuperato ce l'abbiamo, vedo questo è Fischer, il più giovane pilota recuperato è stato anche il primo lo stiamo centrando, ecco perfetto ecco questo quando è stato colpito in combattimento con un aero americano aveva 19 anni e 11 mesi di età quindi in dialetto romagnolo diciamo l'era un tabac, no? ancora e quindi per dire che avevano diciamo già l'orientamento e provenire dalle scuole quindi era un ragazzo che non aveva molte esperienze di volo, tutto qui quindi li mandavano verso la fine della guerra, li mandavano purché andassero su contro gli americani, gli inglesi, li mandavano questo per esempio quello esatto, che cos'è? questo è un necessario, sempre del giovane pilota è un necessario per pulire le unghie ah, quindi anche una manicura e l'utensile per le manicure invece vedo che ci sono anche delle immagini religiose, delle madonnine insomma quindi si cercava comunque una protezione possiamo dire dall'alto queste ovviamente sono molto piccole queste è piccole però queste questa è la madonna di Lourdes che aveva addosso il pilota tedesco, l'ultimo pilota recuperato quindi era un credente naturalmente che comunque questi reperti nonostante appunto la caduta insomma dell'aereo sono conservati e sembra piuttosto bene quindi rimangono in sostanza congelati si rimangono congelati dove c'è il corpo perché poi lì c'è anche una miscela di carburante eccetera che preserva, carburante e olio e quindi abbiamo trovato anche diverse parti immunificate adesso forse non è il caso di andare attorno a queste diciamo problematiche però abbiamo trovato tantissimi oggetti che per noi sono la storia e il ricordo di quel pilota e che trasmettiamo alle giovani generazioni quindi sono oggetti che fanno ricordare e pensare il discorso di prima che la guerra non ha senso proprio assolutamente e per questo vi rivolgete anche appunto per lanciare questo messaggio vi rivolgete anche alle giovani generazioni, alle scuole avete un'attività in questo senso? sì sì ci rivolgiamo anche loro diciamo diverse scuole sono venute e ultimamente purtroppo per il Coboda abbiamo dovuto fare le video le video diciamo conferenze però abbiamo notato che i ragazzini sono molto quando si parla e si fa vedere direttamente quelli che sono gli eventi storici di questo genere sono molto interessati e curiosi quindi il messaggio è sempre quello di prima evitare che la guerra non ha senso e farla capire non ha senso abbiamo notato questo per esempio nei giovani un conto è che il professore spiega quegli eventi a scuola un conto è che il ragazzino legge nel libro quegli eventi ma quando vengono a vedere il museo vedono l'aerrore che è stato sistemato un attimino gli effetti, gli agenti personali dei piloti le loro storie degli ultimi giorni eccetera ecco il messaggio è che la guerra non ha senso arriva quindi per noi è la nostra soddisfazione questa far capire che la guerra non ha senso diceva Museo allora vedo che già la nostra regia sta proponendo le immagini appunto che abbiamo realizzato all'interno della struttura allora andrei a vederle insieme magari ci racconta qualcosa appunto di quello che stiamo vedendo questa è la ricostruzione del caccio tedesco il mese 1109 questa è la ricostruzione del caccio inglese con alcuni manichini che hanno le divise originali del periodo poi c'è il motore quindi qui abbiamo anche un altro motore recuperato altre storie in fondo c'è un motore stato donato al museo che è un motore a reazione dei primi aerei quindi diciamo negli anni 50 questa è una vetrina con tanti reperti che appartenevano al pilota italiano ecco giustamente Visconti che è stato un eroe perché ha battuto 27-28 aerei nemici e quindi la sua storia è molto triste però abbiamo avuto modo di sapere dove era caduto tramite un testimone vicino al lago di Garda non c'è mente vicino e la ricerca ha portato proprio a recuperare tante cose compresa anche un bottone della sua giacca ah quindi veramente piccoli elementi esatto qui siamo sempre all'interno della struttura museale ecco qui si vedono alcune gigantografie dei piloti recuperati abbiamo il brasiliano e il secondo italiano queste sono particolari di un motore in linea che fa vedere le vave fa vedere un po' la tecnologia di quel tempo qui abbiamo alcuni oggetti che sono stati trasformati in oggetti di pace alcuni serbatoi di scorta ausiliari di cui il primo è stato ricavato subito dopo la guerra per fare un sidecar un motocicletta a tre posti questo è un triciclo ricavato da leveraggi di un bombardiere caduto che si era diciamo abbastanza distrutto questo è un telefono da bunker cioè da postazione e in fondo sempre le fa ecco queste sono c'è il telefono da campo tedesco poi qui abbiamo alcune cuffie dei piloti qui c'è la radio tedesca e la visiera da ufficiale e il mettige quello che sono questo è sempre parte di un catching laser recuperato ecco là si vede le vetrine che c'è l'orologio che ho fatto vedere prima ecco questi sono alcuni oggetti donati al museo che appartenevano diciamo alle situazioni di comando del velivo c'è il timone, i flap qui sono altri reperti sempre riferiti qui siamo sempre nella parte inglese e quello lungo che si vede non è altro che la cloche distrutta perché era sotto terra del caccia inglese qui è un supporto motore di un caccia americano che era in acqua è stato trovato in acqua e poi è stato donato al museo questa gialla è molto originale non è altro che una radio diciamo di emergenza che faceva parte dei bombardieri quindi siccome il bombardiere era magari avuto un incidente in panna eccetera quindi questa struttura che ha l'incavo diciamo l'operatore se le metteva nelle ginocchia poi c'era una manovella che dava corrente e nel contempo parlavano con la base per dire abbiamo avuto un infortunio un terazzo di emergenza siamo qua ecco ma tutti questi elementi ecco questa è una simulazione di comunicazione terra a bordo che viene fatta all'interno del museo quindi per gli ospiti esatto esatto quindi c'è il microfono alla cuffia l'operatore che parlava con i bombardieri in volo per valutare diciamo la missione per vedere diciamo se tutto corrispondeva al piano al piano diciamo prefissato per il suo per diciamo andare in missione di guerra il bombardamento ecco qui ma volevo chiedere noi abbiamo la fortuna in questo caso di avere la sua guida insomma che ci racconta chi viene al museo cosa ha una guida o ha i pannelli informativi come appare ci sono i pannelli informativi poi alle visite guidate siamo sempre presenti perché è giusto c'è un conto magari come dicevo prima il pannello eccetera che tu vedi però quando ti si diciamo ti si illustra la situazione e la storia di quelle cose personalmente diciamo si riesce a recepire quello che erano i momenti quello che è la storia quello che sono i piloti diciamo che abbiamo recuperato e quindi è un aspetto umano diverso da una semplice guida da una semplice illustrazione cartacea chi vuole venire a trovarvi deve andare dove nel vostro sito vi deve telefonare abbiamo il sito abbiamo anche il sito diciamo che c'è un numero di telefono quindi basta anche un numero di telefono naturalmente è valutato in tempo utile non oggi o domani però ecco il contatto telefonico determina di solito sempre le visite guidate l'ultima visita guidata che è stata domenica scorsa abbiamo avuto una rappresentanza del FAI circa 30 persone del FAI che sono venuti a visitare il museo con una visita guidata e mi permetto di dire che sono rimasti molto soddisfatti e contenti di queste visite e faranno propaganda speriamo anche perché i musei ora finalmente sono visitabili le norme di sicurezza saranno applicate ovviamente come in ogni luogo che questo permette di entrare con sincera passione esatto parlavamo del vostro museo della vostra struttura ho visto che veramente sembra piuttosto grande come vi organizzate è difficile mantenere questa struttura seguirla beh sì operare lavorare pulire e disporre è sempre diverso da poter gestire è chiaro che noi siamo aperti due domeniche al mese adesso andiamo andiamo in vacanza naturalmente per l'estate le prime domeniche due domeniche al mese il pomeriggio e quindi contattando per telefono eccetera la gente sa che abbiamo queste aperture chiunque può venire a vedere che non c'è problema poi c'è sempre qualcuno che in caso di chiesto anche illustra quello che è il museo la storia e quello che c'è dentro e vedendo le immagini del museo ovviamente dopo che sono stati recuperati questi elementi richiedono quanta cura per essere riportati diciamo all'originale quindi essere presentabili per il museo penso che questo sia un altro dei lavori intensi perché noi diciamo il recupero viene effettuato di sabato dobbiamo farlo in accordo con la prefettura o la procura della repubblica competente per territorio quando c'è il caduto e quindi poi c'è il comune eccetera quindi bisogna fare una marea di atti burocratici dopodiché noi operiamo di sabato il sabato si comincia a mattina presto perché è sabato questa scelta? è una scelta perché il sabato diciamo tutti quanti non si è impegnati nelle varie attività di lavoro quindi è giornata diciamo libera per modo di dire si fa il recupero e poi il tutto recuperato lo portiamo a Fusignano nella sede della cooperativa agricola Belcianti che ringraziamolo sempre perché ci fornisce la struttura tecnica per poter procedere la pulitura quindi la pulitrice spazio eccetera quindi questo allora il sabato si recupera e la domenica si lavora per pulire un bel weekend è un bel weekend molto impegnativo però quando vedi che i reperti che vengono puliti belli che riesce a capire ad identificare quello che sono cioè non è una noia è una continua atmosfera diciamo felice di interesse di curiosità che praticamente si arriva a sere a sere a lavoro a volte non è sempre finito però la stanchezza non la sente adesso che lavori avete in programma in programma abbiamo diciamo delle indagini da fare una curiosità durante il periodo Covid vi siete dovuti fermare o comunque la vostra attività è potuta andare avanti durante il periodo Covid siamo rimasti fermi sia come indagine sul territorio anche come struttura museale perché purtroppo la questione è quella e adesso piano piano speriamo di riprendere abbiamo alcuni luoghi da andare a verificare però dovremo aspettare il raccolto già fatto perché non possiamo andare a rompere le scatole del contadino con il raccolto in atto dopodiché cominciamo a fare le ricerche e una volta individuato diciamo che c'è il sito che c'è il luogo dell'aereo cominceremo la burocrazia per poter fare intervento e portare alla luce quindi in Romagna ci sono dei luoghi che sono più ricchi di altri diciamo di questi reperti o comunque a livello anche nazionale ce ne sono che avete sentore che insomma abbiano più reperti di altri cioè come diciamo luoghi di caduta beh indubbiamente siamo nell'Italia diciamo della nostra Italia del Nord è diciamo più significativa perché i combattimenti aerei allora le formazioni diciamo alleate siedi bombardieri che scortati dai caccia avevano le siedi diciamo aeroportuali nell'Italia del Sud no a Mendola quelle parti lì e quindi quando c'era l'ordine diciamo di missione decollavano da quei territori per andare a bombardare o le città italiane industriali o la Germania stessa e di conseguenza le formazioni diciamo contrastanti di caccia che erano italiane e tedesche che erano subicate al nord Italia quindi erano erano quelle cioè quelle contrastavano quindi andavano incontro alle formazioni e quindi le zone più interessate queste erano diciamo da Rimini a Venezia a Liguria a Piemonte cioè l'Italia del Nord era la più concentrata per questi combattimenti di contrasto ai bombardamenti o alle missioni in Germania quindi ecco perché c'è un pochino più diciamo di tracce nei nostri territori del nord Veneto in particolare Lombardia anche anche un po' di Romagna nel Ferrarese ne sono molti e lì in quella zona avete già recuperato molto sì sì abbiamo recuperato un po' dappertutto come dicevo D'Assisi è stato il più eclatante come sto come diciamo evento poi abbiamo recuperato nel Ferrarese nel Veneto in Lombardia e poco in Toscana anche in Toscana abbiamo fatto recuperi quindi dove c'è sentore qualcuno ci segnala noi cerchiamo di fare le verifiche vedere andare sul posto per poi insomma il lavoro è ancora molto ma in questo museo c'è ancora spazio o correrà a pensare ad un futuro terzo museo sì cioè di spazio non è rimasto molto adesso ma abbiamo un magazzino che teniamo in deposito tanti reperti recuperati quindi ogni tanto facciamo il cosiddetto turnover è chiaro che se un domani salterà fuori un'altra struttura non mancherà diciamo lo spazio cioè il materiale per poterlo restire quindi di materiale ce n'è e questo chi vi può supportare le amministrazioni insomma perché innanzitutto ci supportiamo noi e poi ogni tanto qualcuno ci dà diciamo qualcosa magari i comuni hanno dato qualcosa tempo fa ma sono molto resti quindi c'è qualche donatore che dà qualcosa e quindi noi siamo ben felici di poter avere avere un contributo che ci permette di respirare un attimino ad andare avanti e fare le nostre cose però prevalentemente siamo praticamente siamo noi e le famiglie appunto di questi piloti che avete trovato tornano a farvi visita ci sono sì addirittura ecco è vero addirittura nel nostro museo vengono ogni tanto sono venuti i parenti e ci sono addirittura dei nipoti del pilota recuperato addirittura sono venuti dall'Australia a vedere a vedere a vedere il museo della Germania ne sono venuti dall'Inghilterra insomma abbiamo abbiamo anche dall'America degli Stati Uniti che il pilota recuperato americano abbiamo avuto il nipote del pilota che è venuto con il marito e i figli a visitare il museo e ci sono sempre quelle scene e quelli atti di emozione o commozione reciproci che quando si parla di queste cose quando il loro congiunto hanno cognizione degli ultimi periodi degli ultimi giorni che era diciamo in vita per le sue missioni ecco sono questi i punti che determinano molta emozione e commozione bene un ultimo messaggio il tempo sta veramente terminando un ultimo messaggio che vogliamo lanciare ai nostri telespettatori ossia insomma perché avere questo interesse per la nostra storia il nostro messaggio è quello di poter avere testimoni che ci aiutano a continuare la ricerca e fa piacere poter avere anche gente che viene a vedere il nostro museo in particolare i giorni perché vogliamo trasmettere i giorni quel diciamo detto famoso che ho detto prima far capire che la guerra non ha senso e comprendono quello che hanno vissuto dei ragazzi dei giovani mandati in guerra qualcuno anche lo sbaraglio e ci riflettono su per capire che la guerra proprio non ha senso assolutamente poi c'è il nostro emblema adesso non so se il nostro emblema che cosa rappresenta l'ha fatto vedere il nostro emblema è diciamo è il nostro diciamo un gonfalone è la nostra bandiera che ha uno scudo ve lo lascio da fare vedere alla nostra regia ecco 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 è vero è vero com'è che giriamo eccolo qua lo stai inquadrando quindi ecco qua questa è la nostra questa è la nostra bandiera quindi al centro c'è uno scudo azzurro e i lati ci sono delle figure allora parlando le figure i lati le figure i lati quella è l'estrema una delle estremità una delle estremità c'è un fa perché siamo romagnoli ferraresi e siemi queste emissioni qua quindi allora dove c'è il faro significa porto maggiori ferraresi poi c'è il fuso attaccato che significa fusignano dove abbiamo la sede museale a destra i pesci rappresentano i conserci perché abbiamo dei consericesi sopra c'è il cavalino rampante che significa lugo baracca e al centro abbiamo due immagini allora quella sopra è un asso di picche quella sotto è una rondine l'asso di picche è stato collocato in memoria e ricordo dello stormo del primo pilota recuperato che era un tedesco quindi è un asso di picche la seconda è una rondine che è a ricordo dello stormo del primo pilota all'aleato recuperato che il suo stormo aveva la rondine e il nostro motto è nemici in guerra uniti in pace perché ognuno riposa nei cimiteri di competenza perfetto direi che non c'è messaggio migliore appunto della pace per chiudere questa nostra trasmissione la ringrazio per questo contributo quindi l'appuntamento al museo di Fusignano per vedere questi interessanti reperti noi salutiamo e ringraziamo il nostro pubblico arrivederci grazie di tutto grazie della specialità grazie a tutti 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 grazie a tutti